Allora, buongiorno a tutti, continuiamo con questi commenti alla midà del Sifte Haim, del Rav Haim Friedlander. Oggi vedremo la Kedusha e poi la terza Berakha. Allora, intanto diciamo due parole sulla Kedusha. La Kedusha che cos'è? È una parte che dice il Khasan durante la ripetizione. Noi sappiamo che quando siamo al Tempio ognuno fa la sua recitazione della midà prima a bassa voce e poi il Khasan ripete tutta quanta la midà per far uscire da obbligo chi non è in grado di recitarla da sola. E quando fa la ripetizione aggiunge, oltre al testo della midà di tutte le 19 Berakhot, aggiunge la Kedusha. La Kedusha si fa in piedi e il pubblico risponde in alcuni punti, solamente però se ha finito la sua recitazione personale che fa a bassa voce. Allora, vediamo di che si tratta. Allora, essenzialmente si fa in piedi e noi, mentre diciamo la Kedusha, santifichiamo a Kadosh Baruch Hu, come fanno gli angeli. Infatti a un certo punto si mima la posizione, la postura degli angeli. Quando si dice Kadosh, Kadosh, Kadosh per tre volte, ci si alza con i piedi uniti per tre volte. Come per far vedere che abbiamo una gamba sola, che ci uniamo in maniera dritta, come fanno gli angeli, che secondo la tradizione hanno una gamba sola. Perché questo rappresenta il fatto che fanno solo la volontà di Kadosh Baruch Hu. Quindi, santifichiamo gli angeli e santifichiamo a Kadosh Baruch Hu come fanno gli angeli. E la cosa interessante è che impariamo a santificare dagli angeli, lo vedremo. A santificare a Kadosh Baruch Hu dagli angeli. Poi vediamo che significa santificare a Kadosh Baruch Hu in realtà. Impariamo quindi a santificare a Kadosh Baruch Hu dagli angeli. Ma è scritto anche che solo dopo che noi abbiamo fatto la nostra Kedusha qui in terra, allora anche gli angeli possono fare la loro Kedusha. Questo anche è molto interessante. Come dire che si dà la precedenza all'azione umana. Cioè l'azione umana è più forte, influenza i mondi superiori. Questo sembra dirci il commento, la fonte. Dunque, vediamo il testo. Lo leggo direttamente in italiano e dice così. Noi ti santifichiamo e ti celebriamo con la stessa misteriosa melodia dei Santi Serafini. Allora quando per tre volte ti proclamano santo, secondo ciò che è scritto nel profeta Isaia. E l'uno gridava all'altro e diceva. Santo, santo, santo è l'eterno degli eserciti. L'uno gridava all'altro. Qua è importante sottolineare il fatto che solo se sono insieme e santificano insieme, allora veramente c'è Kvod Jamayim. C'è, come dire, viene allargato l'onore di Akkadosh Baruch Hu. E ancora è scritto santo per tre volte. Questa è una citazione di un testo del profeta Isaia. E secondo il commento queste tre volte del termine Kadosh stanno a rappresentare i tre mondi. Akkadosh Baruch Hu è santo nel mondo superiore, che è il mondo degli angeli. Nel secondo mondo, che è il mondo dei pianeti e delle stelle. E nel nostro mondo. E ancora, Hashem Sevaot è scritto, l'eterno degli eserciti. Che vuol dire l'eterno degli eserciti? Vuol dire che si estende in tutte le schiere. Sevaot si può tradurre o come eserciti che come schiere. Ossia Akkadosh Baruch Hu si estende in tutte le schiere, sia quelle inferiori sia quelle superiori. L'abbiamo detto, è santificato nei tre mondi. Parte la santificazione qua dal basso e poi sale verso i mondi superiori. E ancora, tu sei Kadosh. Tutta la terra è piena della sua forza. Melo Colares Che Vodò. Quindi sembra una contraddizione qua il testo. Perché da una parte dice che è Kadosh, è santificato. Santificato vuol dire che è separato, essenzialmente. Poi lo vedremo meglio anche nella prossima Berakha. Però contemporaneamente anche Melo Colares Che Vodò riempie tutta la terra della sua gloria. Quindi è sia lontano che vicino. Cioè riesce ad essere contemporaneamente sia distinto, sia vicino a noi. E infatti subito dopo è scritto anche, lo vedremo poi in realtà nella Berakha successiva, Baruch Atta Hashem Aella Kadosh. Benetto tu, Signore, che sei colui che fa del bene, quindi sei inserito nella realtà e partecipi alla realtà facendote il bene, ma contemporaneamente riesci ad essere anche separato, distinto. Perché sei completamente diverso. E ancora, Baruch Che Vodashemimekomo, benedetta la gloria del Signore nel suo posto. Che vuol dire nel suo posto? Vuol dire che adesso che ha distrutto il Betta Mikdash, il suo luogo è comunque benedetto. Ma qual è il suo luogo? Il suo luogo è tutti i luoghi. Cioè Kadosh Baruch Hu, da quando si è distrutto il Tempio, da qua capiamo che è in tutti i luoghi. Perché? Perché lui è il luogo del mondo. Kadosh Baruch Hu, un altro nome di Kadosh Baruch Hu è proprio Ammakom, il luogo. Perché è lui il luogo del mondo. E non è il mondo il suo luogo. Quindi vuol dire benedetta la sua gloria, la gloria di Kadosh Baruch Hu nel suo luogo. Vuol dire in tutti i luoghi, in realtà, da quando si è distrutto il Betta Mikdash. E adesso vediamo la terza berakha. La terza berakha è sempre una berakha di lode. Si lega alla Kedusha perché si chiama Birkat Atta Kadosh. Noi in questa berakha lo diamo a Kadosh Baruch Hu in quanto separato, in quanto Kadosh, in quanto santificato, in quanto distinto da noi, dalla materialità, eccetera. E ancora, qua noi capiamo che a Kadosh Baruch Hu, l'abbiamo già capito con la Kadusha, ma ancora di più che a Kadosh Baruch Hu è santo. E la sua santità e la sua altezza ci provoca una sorta di bitul, una sorta di annullamento nei suoi confetti. Ci sentiamo un niente davanti a lui, capiamo la sua grandezza, capiamo che è così distinto, separato dalla materialità, santo, eccetera. E quindi questo provoca un annullamento da parte nostra. Ci sentiamo piccoli, quasi un niente davanti a Kadosh Baruch Hu. Questo viene detto. In ogni generazione incoroneremo re a Kadosh Baruch Hu. Un altro aspetto di questa berakha è che non solo lo diamo a Kadosh Baruch Hu perché è santo, ma anche perché è re. E quindi in quanto re dobbiamo accettare tutto quello che ci viene richiesto, tutte le mitzvot. E tutto quello che ci manda essenzialmente. Chiù le vadò marrombe Kadosh perché lui solo è alto e santo. Vesciv ha ha eluenu mipinu. E la nostra lode, o Dio nostro, mipinu, viene dalle nostre labbra. Quindi per questo noi ti lo diamo. E qua è interessante il commento di Rafferil Lander che dice Qual è il legame con la berakha precedente? Nella berakha precedente abbiamo detto che lo deviamo a Kadosh Baruch Hu perché fa risorgere i morti. Qual è il legame? Perché con la morte il corpo viene purificato e quindi solo dopo essere stati purificati allora possiamo lodare e santificare a Kadosh Baruch Hu. Quindi qua è scritto proprio la tua lode è nelle nostre bocche. Cioè noi siamo in grado di lodarti, di santificarti. L'oyamush lo lamvede non si allontanerà mai dalla nostra bocca la tua lode perché appunto sei santo, sei separato, sei un re. E ancora Rafferil Lander dice che ci sono tre tipi di Kedusha, tre tipi di santità. Una santità che riguarda noi. In che senso è scritto nella paraccia di Kedushim, per appunto, Kedushim Tiyu. Siate santi perché santo sono io. Anche noi dobbiamo essere santi e separati, come a Kadosh Baruch Hu. In che senso? Nel senso dice sul posto Rashi che dobbiamo essere separati dalle Averot e dalle Araiot. Cioè dai rapporti proibiti e dalle Averot. In questo modo possiamo staccarci dalla materialità, quindi distinguerci dalla materialità e cominciare invece a somigliare più a Kadosh Baruch Hu. In questo senso dobbiamo essere santi. E ancora, secondo tipo di Kedusha per gli Tzadikim. Gli Tzadikim invece riescono quasi del tutto a separarsi dalla natura. Per noi è un discorso di separarci il più possibile anche dalle cose permesse. Non del tutto ovviamente, perché sappiamo che dobbiamo mangiare, perché dobbiamo provare dei piaceri anche per il nostro corpo, eccetera, eccetera. Però qua il testo le dice, se vuoi essere ancora più Kadosh, ancora più santo, se vuoi assomigliare ancora di più a Kadosh Baruch Hu, cerca di separarti anche da ciò che è permesso, un pochino. Quindi sicuramente dalle Averot, sicuramente dalle trasgressioni, sicuramente dai rapporti proibiti. Ma se vuoi cerca di portare avanti una sorta di moderazione anche in ciò che è permesso. Questo è essere Kedushim per noi. Per gli Tzadikim invece il livello è superiore, perché? Perché loro riescono a separarsi quasi del tutto dalla natura. E quasi non vengono toccati, non sentono il desiderio delle cose materiali, eccetera. E per questo merito anche Hashem supera le leggi di natura per loro, fa dei miracoli per loro. Oppure anche loro stessi, grazie a questa modalità di azione, riescono ad andare oltre la natura. Infatti in alcuni casi fanno dei miracoli, anche gli Tzadikim stessi. Proprio perché si sanno separare, si sanno limitare, si sanno separare dalla natura. E quindi anche non sono più soggetti alle leggi di natura, in alcuni casi, e possono fare dei miracoli. Questo ovviamente è casi molto limitati, solo per gli Tzadikim. Terzo livello è la Kedusha di Akadosh Baruch Hu. La santità di Akadosh Baruch Hu è completamente distinta dalla natura. È qualcosa di completamente altro rispetto a noi, creature. E anche è separato dalla nostra comprensione, perché non possiamo comprenderlo completamente. Quindi è distinto anche dal nostro intelletto, perché possiamo capire, ma solo in parte. Perché è scritto quindi Tu sei santo e il tuo nome è santo. In che senso il tuo nome è santo? Nel senso che è separato. Anche questo nome non lo possiamo comprendere, perché il nome di fatto esprime le qualità di Akadosh Baruch Hu. È una definizione. Noi non possiamo definire Akadosh Baruch Hu. Quindi anche il tuo nome è separato. Possiamo comprendere Akadosh Baruch Hu in parte, solo attraverso i suoi attributi, solo attraverso i suoi comportamenti, attraverso i suoi caratteri. E più noi ci separiamo e diventiamo Kedoshim, anche noi, più, come dicevo prima, riusciamo ad assomigliare Akadosh Baruch Hu e ai suoi attributi, per l'appunto, ai suoi caratteri. Perché come abbiamo detto una scorsa volta, o due volte fa, c'è una mitzvah che ti dice che dobbiamo imitare Akadosh Baruch Hu nei suoi comportamenti. Quindi più noi siamo santi e separati, più cominciamo a assomigliare a lui nei suoi comportamenti. E solo nel mondo futuro invece potremo comprendere Akadosh Baruch Hu, anche le azioni che oggi ci sembrano ingiuste. E perché riusciamo a capire Akadosh Baruch Hu, anche se solo in parte? Perché siamo Bezzel e Melokhin, perché siamo ad immagine e somiglianza di Akadosh Baruch Hu. Quindi il simile capisce il simile, anche se non completamente, però comunque in parte possiamo comprenderlo, attraverso i suoi attributi, attraverso i suoi comportamenti. E come abbiamo detto una scorsa volta, o due volte fa, e questo non riuscire a capire completamente Akadosh Baruch Hu, ce lo rende temibile, Norah. E per questo, questo termine l'avevamo studiato nella prima Berahat, e si legava a Yaakov. Si legava a Yaakov, perché lui a un certo punto, dopo il sogno della scala, disse, come è temibile questo luogo, dopo aver fatto il sogno, perché sentiva la presenza di Akadosh Baruch Hu, ovviamente. e dunque da questo concetto di Akadosh Baruch Hu in quanto Norah, in quanto non comprensibile completamente, in quanto temibile, capiamo che questa Berahat è legata a Yaakov. La prima era legata a tutti e tre i patriarchi, però in particolare ad Avram, perché si concludeva dicendo, Baruch HaTashem Maggen Avram, è detto tu, signore, che sei scudo di Avram, perché abbiamo studiato, Avram era quello che aveva raggiunto il livello di sicurezza, in Akadosh Baruch Hu maggiore, perché si era buttato direttamente nella fornace. Il secondo invece era legato a, la seconda Berahat invece era legata ad Yitzchak, perché, secondo un commento, Yitzchak quando stava per essere sacrificato, aveva capito completamente quello che gli sta succedendo, era morto e poi resuscitato. E quindi anche questo può essere un collegamento, e poi anche perché, come abbiamo detto la scorsa volta, Yitzchak ha soggiogato il suo istinto, e abbiamo detto che chi è Ghibor, quello che soggioga il suo istinto. La seconda Berahat era legata alla forza, quindi si lega anche a Yitzchak, perché lui è stato forte per eccellenza, perché ha soggiogato il suo istinto proprio durante l'Akedat Yitzchak, la legatura. E la terza, ecco qua, che la leghiamo invece a Yaakov, perché c'è questo concetto di Akadosh Baruch Hu, di essere temibile, non comprensibile, completamente, come lui aveva sperimentato dopo il sogno. Dunque l'Akedatosh Baruch Hu è stato e separato, e quindi non comprensibile, e quindi per questo lo leghiamo anche a Yaakov, che anche lui aveva sperimentato questo non riuscire a comprendere, sentire la presenza di Akadosh Baruch Hu, ma non riuscire a comprenderla completamente. Ancora, E i santi ogni giorno ti loderanno. Chi sono questi santi? O gli angeli, oppure noi, per l'appunto, come abbiamo detto, come è scritto, è una paraccia di Kedoshim, Kedoshim Teyuh, siate santi. Quindi questo termine si può riferire agli uomini, chiaramente, che appunto separandosi dalla materialità si avvicinano a Akadosh Baruch Hu e cominciano ad assomigliare sempre di più ad Akadosh Baruch Hu.